Ambientalisti residenti uniti contro la ciclovia dell'Arzilla. Il progetto, così come redatto da ASET e avvallato dall'amministrazione comunale, non piace a molte persone che questo tratto lo frequentano abitualmente. Infatti, come ci spiega Claudio Razzi della Lupus in Fabula, la società dei servizi ha già appaltato l'opera e non vuole cambiare il progetto, che secondo l'associazione ambientalista ha un significativo impatto ambientale e si traduce in un utile spreco di denaro pubblico. Ci saremo aspettati, ha detto Razzi, che il progetto della ciclo pedonale redatto su indicazioni della precedente giunta venisse modificato per trovare soluzioni tecniche alternative alle invadenti gabbionate alte fino a 4 metri e lunghe 70, che comporteranno l'abbattimento di 30 alberi di alto fusto. Sarebbe ancora possibile modificare il progetto, che prevede la pista di 3 metri, più caditoi e nuova illuminazione, ma serve una volontà politica e una sensibilità ambientale, ha concluso, che sembra non esserci. Ovviamente il Consiglio Comunale nel 2018 ha chiesto che il progetto venisse modificato salvaguardando gli alberi e riducendo la dimensione della pista ciclabile. Questo non è stato fatto. Dopo successivi incontri con l'assessore, che non ha portato nulla, abbiamo incontrato il sindaco due volte, che a parole si è dichiarato disponibile a ridurre la dimensione della ciclabile in modo da salvaguardare la scarpata. Tuttavia Aset è stato irrimovibile da questo punto di vista per non cambiare il progetto e il sindaco d'altronde non ha fatto nulla per chiedere ad Aset di modificare il progetto. A novembre 2021, ha proseguito Razzi, Aset ha presentato uno studio geologico, dopo aver appaltato il progetto, il quale stabilisce che questo versante è instabile e quindi la gabbionata sarebbe comunque necessaria, anche se in più di 20 anni non si è verificato alcun cedimento. Tuttavia, se il Comune ritiene che sia necessario sostenere la scarpata, allora ci chiediamo perché deve essere fatto solo su questi 70 metri e non su tutto il percorso della ciclabile. Quindi qui c'è una contraddizione, o la scarpata è instabile, allora la cestonata va da là, cioè va fatta per almeno 200 metri, altrimenti bisogna che lasciano il progetto così com'è. La pista ciclabile potrebbe essere allargata di un altro mezzo metro andando a interessare il dosso, quindi facendo un unico piano qua, che sarebbe ugualmente percorribile in sicurezza da pedoni ciclisti e verrebbe salvaguardato questo ambiente naturale. Giorgio, anche quello alle sue spalle è uno dei tratti contestati? Esatto, allora qua alle mie spalle abbiamo uno dei tratti che in questo progetto è stato stralciato, invece noi come Erzilla Resistente chiediamo che anche questo tratto venga sistemato con lo stesso fondo che utilizzeranno nei tratti 2 e 3, cioè quelli oggetto dell'intervento con gabbionate eccetera eccetera, che noi contestiamo, però questo tratto che invece è un tratto di congiunzione tra il mare e via Paleotta, che sono circa 200 metri, chiediamo che venga sistemato con lo stesso fondo e con un'illuminazione più adeguata. Qua già ci sono dei lampioni, però sono dei lampioni abbastanza insufficienti, per cui questa qui è una cosa che invece come comitato chiediamo in maniera forte. E diversi sono i cittadini che questa mattina si sono riuniti per far sentire la loro voce e lanciare appelli al comune di Fano. Sono qui anche per ribadire che non vedo la necessità di stravolgere questa piccola osi che abbiamo a due passi dalla città e che regala delle emozioni naturalistiche meravigliose. Poi comunque la natura è di tutti, è anche passata una legge che dice che anche il pubblico deve mantenere e deve dare delle risposte e non è più insomma possibile stravolgere, tagliare e senza ascoltare le nostre voci. Faustina, lei da residente che cosa ne pensa? Io da residente voglio porre proprio questa cosa, che io sono una cittadina e non faccio parte di nessuna associazione, però abitando qui, avendo l'opportuna di abitare qua, io ho conosciuto questo percorso e lo percorro da 30 anni. E io vorrei che questo percorso verisse conosciuto da più cittadini possibili. Venite a vedere quel di cui stiamo parlando, perché qui magari uno pensa, ah ma è un solito discorso, non vogliono far fare niente, cose varie. No, noi questo posto vorremmo che lo frequentassero più gente possibile, come già lo stanno facendo, perché qui vengono a correre, vengono a fare le passeggiate, ci sono gli anziani che vengono, ci sono persone addirittura con disabilità che passano con le carrozzine. È un posto che, specialmente d'estate, che qui è tutto ombreggiato ed è fresco, la gente ne approfitta per andare verso il mare ed è bello insomma. Sentite gli uccellini, qui d'estate è così. Io qui ci ho visto gli istrici, c'è l'airone cenerino che passa, delle volte lo vede sfrecciare qua lungo il canale, ci sono le papere. Lei venga a maggio, a maggio qui è pieno di lucciole, è fantastico questo posto, è per questo che ci stiamo battendo, perché la natura sia predominante in questo posto. Se poi lo vogliamo fare il selciato più liscio, vogliamo mettere due luci, va benissimo, nessuno lo contesta, ma lasciamo questo posto che con i passeggi è l'unico posto al centro di Fano, che ha un po' di natura e che uno può raggiungere da qualsiasi parte, perché la può raggiungere dalla Palleotta, la può raggiungere dalla Cantina Morelli, la può raggiungere dal mare, arrivare fino ad Attano. Io sono estere fatta, non capisco la ragione di questo progetto.